Questa trilogia rappresenta un pochino la scissione in cui si trova il mondo contemporaneo e ovviamente l'uomo contemporaneo. Da una parte abbiamo quest'opera che rappresenta la classicità con quest'eroe lato che potrebbe essere un mercurio che viene da lontano e che viene dalla notte dei tempi. Dall'altra abbiamo quest'altra opera che è opposta alla prima e che è un pochino l'animismo delle culture arcaiche di cui le radici probabilmente anche di quest'isola, ma che sono molto più ampie di così ed è un'opera che rappresenta gli oggetti d'uso, gli oggetti quotidiani, il tessere, queste ampolle che sono un pochino simbolo dell'utero come entità cosmica che racchiude tutto. Ovviamente quest'opera rappresenta la componente emotiva dell'animo umano, mentre la prima di cui abbiamo parlato, l'opera al nero, rappresenta se vogliamo la razionalità. Allora questa duplicità, questa opposizione se vogliamo tra classico e romantico, tra emozione e ragione, che fa parte dell'interiorità umana, è in effetti scissa anche se tutti noi agoniamo a trovare un equilibrio armonico, chiamiamolo pure superiore, che io definisco essere la dimensione se vogliamo spirituale, anche detto da un punto di vista ateo. La dimensione qui di questa terza entità non è altro che una mondana dove appunto noi vediamo che sì esiste un'epifania, sì ha un viso che se vogliamo è anche androgino, ma soprattutto è rappresentata con un enigma di questi due calici che sono spezzati, il che vuol dire che in un certo senso la nostra proiezione spirituale nel mondo, nell'universo, non dà assolutamente nient'altro come nutrimento se non una speranza che è quella dell'unione di questi opposti.